L'iPhone 4 fa delle foto Albi! Mi ha detto che... Mi ha detto che uno cinese in classe Mi ha detto che l'iPhone 4 utilizza dei colori falsi che sembrano più belli Mi prendo il brufoli Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Oh dai ce ne ho troppi Non metterlo su Youtube Mi raccomando